Il famigerato Palazzo della Vergogna sarà abbattuto entro il 5 ottobre. La decisione è arrivata ieri sera dopo ore di confronto tra il sindaco della città di Vibo Valencia, Elio Costa, e i proprietari dell'edificio che da 25 anni, esattamente dal 17 luglio del 1990, si trova chiuso perché dichiarato inagibile. La vicenda è finita nelle aule del Tribunale. Nel frattempo tante sono state le amministrazioni che in vano hanno tentato di mettere d'accordo le parti per riqualificare un edificio che si affaccia sul centralissimo Corso Vittorio Emanuele III. Anche perché col passare degli anni questo vecchio immobile rischia di crollare. Lo hanno stabilito i vigili del fuoco dopo un nuovo sopralluogo effettuato pochi giorni fa. Dunque il Palazzo della Vergogna non rappresenta più una bruttura per la città, ma un vero e proprio pericolo per l'incolumità pubblica. Da qui il pugno duro del primo cittadino che ha convocato i proprietari dell'immobile intimando loro di abbatterlo. Il problema è se dovrà demolirli il comune, ovvero ci penseranno loro stessi alla demolizione e quindi alla costruzione. In ogni caso io credo che non andremo oltre il 5 ottobre. Dunque la demolizione entro il 5 ottobre? La demolizione o da parte nostra o da parte loro. Non ci siano interventi giudiziari, interventi dei TAR, interventi del giudice amministrativo. L'amministrazione è fermamente decisa, ma soprattutto è fermamente convinta, tenuto conto delle relazioni che sono state fatte da parte dei vigili del fuoco, delle relazioni che sono state fatte da parte dell'ufficio tecnico, che ormai è un edificio estremamente pericolante. Grazie a tutti.